Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, restano rallentamenti per traffico verso nord tra Firenze in Pruneta e il Bivio con la 11. Careggiato opposta, coda in uscita a Firenze Sud per lavori. Regolarizzato al momento il traffico sulla Firenze Mare, mentre in Fipilì restano rallentamenti per traffico tra Scandicci e Firenze Scandicci. Siamo alla cantieristica in Fipilì per interventi straordinari per adeguamento funzionale. Segnaliamo la chiusura delle aree di sosta verso Firenze all'altezza dei chilometri 42,5, 55, 64 e 70. Lo guardo a traffico ferroviario sta tornando gradualmente alla normalità la circolazione a seguito di guasto temporaneo agli impianti all'altezza di Arezzo. Moversi in Toscana Infa, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.